Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La principessa di Galles, Kate Merrothan, ha un cancro ed è attualmente sottoposta a chemioterapia. L'annuncio è stato dato in un video dalla stessa Kate, mentre Kensington Towers ha già annunciato che non fornirà ulteriori informazioni sulla natura del tumore per ragioni di privacy. Kate, che ha 42 anni, è stata sottoposta, due mesi fa, a un intervento all'addome, le cui cause non erano state chiarite. In un primo momento, però, la famiglia reale aveva negato che si trattasse di un cancro. Queste le sue parole. Questo ovviamente è stato un enorme shock. William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Ci è voluto del tempo per riprendersi da un intervento chirurgico importante e iniziare il mio trattamento. La cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louise in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e sto diventando più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito.